Ciao Sfera, possiamo fare una foto? Sneakers, anche non in aereo, Miami. Non lo saprei, dipende dalla cera, in aeroporto, a registrare la mia prima canzone, continuare a registrare altre canzoni. Direi cena in famiglia, è la cosa che preferisco. Direi cena in famiglia. Starei lavorando per pagarmi lo studio e provare a fare il cantante. Forse negli anni 70. Sai che non sono mai stato un karaoke nella mia vita? Mi vergogno tantissimo. Non saprei. Ho avuto paura di volare per direi fino a un paio di anni fa. Quindi le vertigini penso. L'età. Non è vero, niente in verità. No, sono sincero. Sì, ne voglio. Quello che non si può dire in questa intervista. Penso che sarebbe a uno di quei personaggi tipo Elon Musk o Jeff Bezos. E gli chiederemo come hai fatto. Spiegami bene proprio passo passo. Sediamoci un attimo io e te e spiegami. Il titolo ora mi sfugge. Il titolo non era... Non me lo ricordo. Verso i 12-13 anni. Ciao a tutti. Sono Sfere Basta. Se volete guardare altri video, cliccate qui.